Per la sua dolorosa passione, 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 santo Dio, santo forte e santo immortale, santo Dio, santo forte e santo immortale, santo Dio, santo forte e santo immortale, Santo faustina, santo Giovan di Paolo II, meditiamo il mistero di stare, il primo mistero della gioia si contempla l'annunciazione di Maria, Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Il Signore è suscito da mezzo al giorno, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i figli e i morti. Devendole lo Spirito Santo, la Santa Chiesa Tattolica, la comunione dei Santi, la revisione dei peccati, La risurrezione della carne, la vita è verna. Amore. 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 Consiglio in te, consiglio, consiglio, in te l'acqua. che scato e scintato di Gesù e di misericordia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.